per livello bluetooth che voi guardate sembra la bici dei bambini che vai mi spingete voi piccione andiamo su buongiorno a tutti benvenuti poco prima si lungo le mura anche se non so come farò arrivarci dalle scalinate come si arriva praticamente adesso è il primo video che mi vedrete camminare il motivo è questo quindi il problema è visibile stiamo andando in città alta perché è l'unico modo in cui posso usarla tanto ragazzi lo conoscete alle carmi va sempre in città alta esatto è l'unico video che porta però questa volta non sarà senza catena ma sarà senza movimento centrale infatti la mia idea era andare su quella vespa mio fratello guida la vespa io mi attaccavo e salivamo potremmo farlo volendo però ci fermano io spero che il freno non si rompa 7120 ma devo farlo spurgo fa vuoto 400 euro di freno allora siamo pronti per questa impresa no non sguervarli occhio che io non riesco bene ad andare ce la sto facendo mi tiro su dai peg occhio non posso frenare e mi scrappa in faccia si però rallento troppo poi non prendo più velocità no 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 vai vediamo chi arriva prima senza pedalare no no quanto vai forte ma perché non va la mia ho praticamente ho fatto un video con Luca Combi l'altro giorno e ho distrutto tutto non ho più il mozzo e il 3 giugno mi arrivano i pezzi quindi solamente il 3 giugno potrò fare le robe e oggi mi sto divertendo così per livello e bluetooth grande watch out appena prendo velocità faccio un criss cross no permesso permesso dream dream grazie dream dream dovrò inventare un nuovo metodo per andare in bici adesso il metodo monopattino non funziona ti prego ti prego ti prego lo devo provare non è che lui è il z boy lui va a baltimore a fare di così aspetta aspetta devo trovare un nuovo metodo per andare in bici monopattino sai cosa devo fare come un ghero che fa no end che tu mi spingi io mi metto il pede qua mentre tu vai e intanto andiamo all'infinito in no end ah è vero però non so come sia possibile fisicamente quella cosa ma lui usa le hack si ciao mi è arrivato un passo di catena in faccia oh no perché mi sembrava poi invece era il laccio che sono una persona rispettosa e sulle strisce la spingo la bici per scelta non per obbligo adesso mi prendo una bevanda per veri uomini questo si policio policio poi poi 44 aspetta devo andare più veloci bella ragazzi questo video è finito spero vi sia piaciuto il prossimo video sarà ancora più epico di questo non avete idea dei video che vi porterò sto creando delle serie nella mia testa è tutto fighissimo adesso vediamo di metterlo in video lasciate mi piace iscrivetevi e andate a seguirmi su instagram perché usciranno dei contenuti anche lì pazzeschi già oggi è da quattro giorni che sto postando costantemente reel e ci vediamo bella ciao